Buonasera a tutti, questa è la mia personalissima unboxing della limited codice edition di Assassin's Creed Brotherhood che mi è arrivata stamattina dopo che l'avevo ordinata il 3 novembre scorso dal sito Ubisoft Grazie a tutti Questo è lo scrigno rinascimentale in cui è contenuta la confezione E questo è il contenuto Il codice di Altair Le carte da collezione La cartina di Roma La colonna sonora del videogioco Il film Assassin's Creed Lineage Che è il prologo del secondo capitolo E infine Il disco di gioco per la PS3 di Assassin's Creed Brotherhood Ciao a tutti e grazie per l'attenzione